Usi Android e vuoi imparare l'inglese? Allora questa applicazione è per te. Sai che guardi il tuo smartphone almeno 100 volte al giorno? Con Warbit, ogni volta che sblocchi il telefono, prima di immergerti in altre applicazioni, puoi imparare una nuova parola in inglese. Warbit ha diverse categorie e livelli d'inglese che potrai selezionare a tuo piacimento. Le tre modalità di studio renderanno il tuo apprendimento molto più divertente. Puoi selezionare le parole che non conosci, di cui non sei sicuro e quelle imparate con le opzioni non so, incerta e appresa. Puoi anche personalizzare Warbit grazie alla vasta scelta di colore a disposizione. Ci sono molte persone in giro per il mondo che usano Warbit, perché non ti unisci a noi? Ah, ho dimenticato di dirti che l'app è completamente gratuita e senza costi aggiuntivi.